Buonasera all'Istituto Italiano di Cultura della Valletta, sono Vincenzo Marra, il regista del film La Volta Buona e so che proietterete il mio ultimo lavoro in una modalità diversa, diciamo figlia di questi giorni in piena estate. Sono contento che avete scelto il mio film, mi sarebbe molto piaciuto essere lì con voi, ma chiaramente sarà impossibile, ma come spesso ho detto durante delle lezioni fatte in tempi diversi ai ragazzi, poi un regista fa un film e lo affida e questo suo lavoro può camminare anche senza l'accompagnamento del suo autore. Oggi per quello che sta succedendo ancora di più. Il mio lavoro, il mio film non ha potuto iniziare la sua vita, diciamo così, perché le proiezioni in Italia, l'uscita in sala era prevista per il 12 marzo e chiaramente non ha avuto la luce, se così si può dire. Quindi ogni possibilità che gli viene dato mi fa essere contento, soprattutto perché adesso molti di noi, parlo di registi, sceneggiatori, scrittori, si stanno interrogando su quello che succederà rispetto ai temi da trattare dopo la pandemia, dopo questi giorni così complicati a livello globale. Il mio pensiero, che è molto allargato, non riguarda solo quello che sta succedendo adesso, ma sono cose che vado ripetendo da molto tempo e c'è che forse riprendere dei valori importanti, riuscire a capire quali sono le cose importanti della vita, che è molto complicato nel momento in cui sembra esserci sempre tutto a disposizione, sembra avere tutto a disposizione, è più facile paradossalmente in questo periodo riuscire a vederle. Questo film è stato fatto in tempi di pace, se si può dire così, e oggi è ancora più forte, ripensandoci quello che volevo dire. La storia è quella di un procuratore dei calciatori fallito che cerca in tutti i modi di avere un'altra occasione della vita dopo averne sprecate tantissime e continua a credere che la possibilità vera di una rinascita, di una sua collocazione nel mondo, passi attraverso la possibilità di un successo, la possibilità di una grande possibilità economica e quindi parte alla volta del Sud America per portare in Italia il futuro nuovo Maradona, se così si può dire. E poi nel corso della storia la vita lo porterà davanti a delle riflessioni, a delle scelte che non avrebbe mai immaginato prima. Ecco, da questo piccolo racconto penso che quello che qualcuno riuscirà a vedere a questo punto da casa, in una sala virtuale, ha molto a che fare con quello che stiamo vivendo in questi giorni. Non voglio rubarvi più tempo, penso e spero di poter venire personalmente un giorno a presentare un altro mio film. Mando un abbraccio a tutti voi virtuali e spero che questo mio film non solo possa piacervi ma anche darvi qualcosa anche nel tempo. Un abbraccio.